Io sto a pensare a capra, a gente che si impiccia dei fatti da capra, perché se la capra ha deciso di campare sopra la panca, oppure se la capra ha deciso di crepare sotto la panca. Beh, sono fatti da capra, no? Sono fatti sua, si ha deciso di crepare sotto la panca, no? Ma la gente non si deve impicciare, non si deve non impicciare, invece che farà la capra? Creperà, non creperà? La capra ha deciso di campare sopra la panca? Eh vabbè, la capra ha deciso di crepare sotto la panca? Beh, io non ce so se sono stato, hai capito? Non ce posso stato, proprio non ce posso stato, ma cazzo? Io non sopporto gli impiccioni, la capra deve fare quello che gli vale. Scheisse!